Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita vi ho saltato il logo e la musica della universal sempre bellissimo da ascoltare ma insomma per diritti di musica non potevo farlo oggi siamo su jurassic world evolution 2 ringrazio la frontier per avermi concesso di provare e portarvi questo titolo giunto al secondo punto capitolo allora vi faccio subito una premessa lo scopo di questo video e mostrarvi che cos'è il gioco mostrarvi l'inizio cercare di vedere insieme a voi per chi può essere dedicato o meno quelli che sono le features in generale vi racconterò anche quello che so ovviamente io non sono un pro player di questi tipi di strategici però insomma ci sono alcune novità rispetto al precedente titolo nel senso che hanno aggiunto la teoria del caos che è molto interessante perché vi permette di rivivere dei momenti dei film sia di jurassic park che di jurassic world quindi rivivrete delle scene in cui dovete andare a gestire fondamentalmente è un gestionale con delle specifiche veramente delle features veramente molto particolari infatti potete guidare elicotteri potete guidare manualmente jeep potete mirare voi stessi insomma di cose da fare ce ne sono poi c'è la modalità sandbox e la modalità sfida dove man mano potete aumentare la difficoltà a sbloccare difficoltà maggiori hanno aggiunto allora se siete dei fan dei dinosauri questo è il gioco per voi se siete amanti dei gestionali di parchi anche questo va per voi e vi inizio subito a dire un paio di modifiche mentre nel jurassic world evolution 1 si gestiva una zona che comunque era circoscritta delle isole ora avrete missioni per quanto riguarda la campagna locata in ogni parte del mondo dai deserti alle foreste fino ai ghiacci insomma alle nevi un'altra modifica importante sono i tipi di clienti perché i clienti quindi visitatori erano molto resi banali diciamo nel primo ora sono divisi in quattro categorie quindi per dire faccio solo l'esempio che quelli di lusso gli ospiti quelli più facoltosi più ricchi useranno e cercheranno dei servizi come hotel di lusso come le spa così come gli avventurieri chiamiamoli così ameranno quelle escursioni all'interno della della palla diciamo palla rotante che li porterà all'interno delle patterie a contatto con i dinosauri questa è un'altra novità e niente poi c'è un dlc che vendono anche con i miglioramenti comunque un'altra aggiunta che è stata fatta su richiesta della community è che ci sono sia elementi diciamo di dinosauri acquatici che volatili quindi quelli che sono in grado di volare ora io voglio voglio iniziare una nuova campagna così vi faccio vedere come inizia il gioco è completamente doppiato in italiano pensate che per giocare all'uno guarda il film classico stavolta la nostra illusione di controllo era maggiore e il caos ebbe conseguenze ben peggiori perché perché non lo sapesse abbiamo ricordato il valore della vita in sintesi io ve lo salto questo perché che cosa succede già in jurassic park insomma c'è modo con il dna di riportare in vita i dinosauri quindi hanno iniziato insomma a fare questi parchi tematici già anche solo in giurassicurati su cui si basa questa serie mostra gli incidenti che ne possono derivare con dinosauri che scappano e così via ma la vita la vita prosperava in questi luoghi centinaia di milioni di anni fa data la storia geologica di questo posto non è così improbabile vedere dei dinosauri sotto questo sole coccente ma la situazione attuale con i dinosauri in totale libertà è insostenibile per quelli al potere o che credo non di esserlo pertanto abbiamo un problema oppure un'opportunità è qui che entri in gioco tu hanno già ignorato i miei avvertimenti forse stavolta con te sarà diverso voglio concedermi il beneficio del dubbio ecco c'è anche il DLSS come grafica diciamo come opzione grafica quindi potete giocarlo in full hd in 4k insomma ora ci presenteranno lo staff e poi inizieremo a giocare così vi mostro un pochino come funziona ok ok abbiamo esperienza sul campo con i dinosauri sono l'ex manager di Jurassic World io e Owen abbiamo contribuito a costruire il parco e sfortunatamente abbiamo anche assistito alla sua distruzione lui è Owen lavora con i veloci raptor puoi considerarmi un domatore ma ufficialmente sono uno studioso di comportamenti animali quando è successo stavo cercando di guadagnarmi la loro fiducia ok ci sono alcune cose da fare al più presto ok serve un centro di risposta con un'auto per la squadra di guardiani e un elicottero per la squadra di cattura perfetto il gioco ci insegna subito i fondamenti anche se il tutorial diciamo che non è che guidi particolarmente comunque abbiamo il centro di risposta che ci costa 100.000 dollari lo possiamo posizionare qui come ci dice il gioco viene costruito in tempi brevi sono state aggiunte dei generatori di energia ausiliari che funzionano a carburante dobbiamo rifornirla al carburante prima che finisca e non alimenti più quindi pensate questo se voi avete un parco e lo pianificate male è questo che rende questo gioco veramente molto particolare rispetto ad altri simulatori di parco se voi mettete tutta la vostra struttura con tutti i vostri dinosauri e vi dimenticate di alimentare questo e non elettrifica più i dinosauri scappano una strage tra i vostri clienti i vostri visitatori e il calo della fama allora un'altra cosa che non vi ho detto è che è stato cambiato anche il concetto delle ricerche nel senso che mentre nell'uno se non ricordo male si si adesso ve lo faccio vedere nell'uno si faceva la ricerca indistintamente a quello che mi ricordo mentre adesso voi reclutate singolarmente gli scienziati stando attenti ha le loro abilità e quindi se trovate magari gli sperimenti di lavoro lavoreranno male se li prendete con delle scarse abilità pure e se userete i vostri scienziati male cioè non per le loro abilità ma facendoli fare dell'altro anche lì la ricerca mi risenterà ora quello che dobbiamo fare è guardare il radar in alto e andare a vedere dove sono questi dinosauri che abbiamo perso in giro e dobbiamo recuperarli vedete che lì dentro lo dobbiamo rimettere ci sta spiegando il fondamento che è quello che io voglio farvi vedere giusto per farvi vedere un pochino la profondità di questo titolo allora l'abbiamo visto lo sto controllando con vasde salgo con spazio scendo con control dobbiamo avvicinarci eccolo lì ok con il tasto centrale del mouse allora ci giriamo di lato dove c'è il tizio perché poi possiamo con R puntare così oppure agganciarlo col tasto centrale del mouse e poi fare spazio e scusate clic del del mouse per spararli spero di non farlo morire nell'acqua perché mi muore così vabbè mannaggia sì ma è caduto nell'acqua cioè muore vabbè lo sgancio e lui poi una volta che mollo l'elicottero torna a casa quindi dobbiamo trasportarlo quindi che succede lo abbiamo perso lì nel lago vedete bellissima la visuale così perché l'elicottero adesso torna indietro allora adesso dobbiamo andare col menu trasporti cliccare su il dinosauro che abbiamo qua e poi dirgli di portarlo qua dentro arriveranno gli elicotteri di recupero vedete che sono già lì e lo andremo a prendere voglio vedere se effettivamente è caduto dentro l'acqua eh sì però vabbè gli avrei sparato nell'acqua ma va bene comunque adesso lo hanno legato e lo porteranno all'interno della recinzione graficamente devo dire che è carino dovrebbe essere massimo dettaglio ora per conto riguardate anche l'ombra dietro ok è stato un glitch un secondo fa ok possiamo accelerare il tempo quindi cerchiamo di andare avanti spediti ci metterebbero le ore ok lo hanno lasciato lì e siamo a posto ora dobbiamo sicurarci ok dobbiamo andare adesso a vedere se lui vive bene adesso si è svegliato dobbiamo stare le statistiche il comfort ok guardate anche le orme che lascia il terreno non c'è molto di cui i dinosauri possano nutrirsi perciò ci servirà una mangiatoia nel perimetro di quel rischio che roba va bene dai andiamo a fare la mangiatoia facciamo qua c'è la mangiatoia che è qua e la mettiamo nell'acqua ok e lì mangia 100.000 euro per sta roba dollari che poco cambia ok abbiamo una riserva di 24 pesci e mangia ok ora dobbiamo eseguire un controllo di stato solo esemplare perfetto dobbiamo prendere il gippone quindi ci andiamo della squadra di guardiani Ongel ti aiuterà a esaminare l'animale poi pianificheremo le nostre prossime mosse è davvero necessario pianificare io ho ragione un tipo a cui piace dobbiamo osservarlo andrà sicuramente a mangiare adesso se non funziona proveremo a fare a modo tuo anche questo mi sembra pianificare dobbiamo andargli vicino però direi di passare dall'altra parte cioè il fatto che voi pianificate ogni elemento di questo scenario cioè la gabbia e e poi ci andate dentro adesso lo dobbiamo puntare con l'aggancio e poi col sinistro lo andiamo a vedere ok ha bisogno di rocce ok perfetto lo vediamo un po' a disagio perché non ha ok dobbiamo avere 30 secondi di comfort al 95% quindi adesso non andiamo a migliorare prima di fare attenzione anche a uscire e non far scappare ok allora molliamo così loro poi tornano tornano per i fatti loro alla base credo e andiamo a costruire le rocce quindi prendiamo dove creano le rocce no eccolo qua costano 1000 dollari l'una ho perso dove è il dinosauro però vabbè adesso mettiamo un po' di rocce ecco un po' eccolo lì mettiamo anche di più piccoline 1000 anche piccole vabbè carino sarà difficile poi spostarsi in gip all'interno però bisogna sempre tenere conto di anche di questo che è uno spettacolo va bene piazzo anche delle rocce qui ok sei a posto adesso? ok sì dovrebbe essere a posto perfetto ora costruisci un posto di guardia nel recinto quindi dobbiamo fare un posto di guardia che sia in grado di curare tutta la zona quindi non possiamo mettere ad esempio qui no qui dai metterlo lì perfetto assegno una guardia dei guardiani ok quindi prendiamo i guardiani aggiungi attività e poi li mando qua clicco lì aggiungi attività se no posso controllare direttamente no li mando lì perfetto e loro adesso hanno il lavoro credo si possa fare questa cosa solo con i dinosauri meno aggressivi per intorno alla struttura è possibile ma le segnalazioni non forniscono il quadro completo della situazione a te lasciano anche i muri no ma non mi puoi fare una roba del genere ma fai giro vabbè che hanno lo snorkel però ti passavi eh dov'è ma lo è e vale anche per noi sì ma a saperlo siamo solo noi almeno per adesso per prima cosa sederemo uno dei dinosauri dall'elicottero poi chiederemo a una squadra di trasporto di portarlo alla struttura va bene bene procedi ok andiamo a prendere altri somministro un sedativo all'esemplare triceratopo ok nelle vicinanze allora prendiamo l'elicottero di nuovo clicco qua controllo diretto andiamo vedete ci viene mostrato anche con il con il radar qua quindi intanto loro stanno uscendo allora dove sono dobbiamo sedarli sono qua nel laghetto triceratopi sono veramente bellissimi poi come ogni bambino ho sempre avuto anch'io la fissa dei dinosauri da piccolo poi complice anche che i power rangers basati sui dinosauri è stata la fine per me allora in realtà qua non me lo fa mirare perché perché probabilmente il tizio da qui è questa infatti vedete che qua esce il mirino però posso anche fare e poi vedete che mi da la percentuale di sedazione perché l'ho portato a 100 ok dovremmo averlo preso no sono un cane a sparare ok adesso dovrebbe essere sedato va bene ehm si l'ho sedato ma li devo sedare tutti va bene facciamo allora quello visuale normale ma più che altro devo sedare tutti perché c'è quella barra lì che va bene uno che vi sedo nel lago è meglio eh ok sediamo l'altro adesso così poi adesso ricreeremo un'abita tutto per loro perfetto costruisce una nuova recensione trasportati un esemplare un esemplare triceratops l'isola l'isola l'esemplare triceratops dagli altri perfetto quindi dovremmo fare tecnicamente e qui il parco inizia a prendere forma eh dovremmo fare mi fa mi cliccia un po' quando faccio sti movimenti ma vabbè non so se sia un problema mio o del gioco comunque facciamo ehm la recensione mi domando se sia possibile ma non ne ho idea vabbè facciamo una una due no 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 voglio fare una cosa base eh niente di una due una eh ho fatto il più corto qua vabbè uno due eh vabbè so che urterà la maggior parte di voi ma questa è una struttura con l'entrata facciamola così poi dobbiamo fare tre strutture qua non si può più costruire quindi dobbiamo ingegniarci noi facciamo un'altra qui perfetto con un'altra entrata qua e poi piazziamo una terza struttura e la mettiamo qua per mettere i tre triceratops e qua si esce dalla costruzione quindi dobbiamo farla così ma a me che fastidio sto far fallire dallo schermo non so se poi lo vedete anche voi ma beh comunque mettiamo un cancello qua e facciamo anche tutti i comunicanti così almeno ok e ci pensiamo che è una strada il tutorial non me lo chiede ma ci tengo ok poi piazziamo questa strada è simile a quella di city skyline ok vabbè facciamo fare il giro così poi la strada invece va da qui ah lì ok quindi è tutto comunicante non è elettrificata quindi dobbiamo dare l'energia creiamo questo che tecnicamente credo possa dare energia a tutto con zx finché ci costa 174 mila dollari vabbè piazziamo uno qua e e ne piazziamo uno qua dato che non è elettrificata questa parte qua ok tecnicamente ora dovrebbe essere tutto elettrificato ora isoliamo va bene trasporti dobbiamo andare a prenderli quindi facciamo uno qui uno qui acceleriamo vanno in tre vanno tre elicotteri quindi dovrebbero farlo tutto velocemente il mio vizio di sedarli nell'acqua non è passato ora c'è una cura del dettaglio pensate poi quando avete un parco completo potete andare all'interno fare le vostre operazioni e questo è un gran glitch e devo capire perché penso sia il gioco probabilmente devono uscire dei driver video opposta perché di solito fanno sempre così quindi ma lo so però vabbè io sto prendendo ancora la versione di gioco di lancio quindi ci saranno patch quindi questo non mi preoccupa minimamente come cosa ok abbiamo tutto pronto no pensate quando avete tutti gli ospiti che vagano per il parco e voi girate con la jeep perché magari ne è scappato uno piuttosto che volete mischiarvi con i visitatori che fate il giro con la palla all'interno del mondo che voi stessi avete decorato è uno spettacolo e l'ho fatto però ragazzi adesso voglio dire però ho finito costruisce una nuova recensione trasporti l'ho fatto richiede controllo medico eh sì sì no infatti adesso me li sta contando perché man mano che si svegliano me li conta ok ecensione ecensione sono tutte ecensioni diverse vedete qua c'è il mondo come è elettrificato ok a breve dovrebbe contare minchè l'ultimo appena si alza ok è tutto abbastanza facilitato come accesso perché comunque ognuno ha un accesso esterno questo 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 quindi direi che non è male tre secondi infatti infatti ok ok a posto che fastidio dobbiamo costruire una galleria panoramica di ricerca praticamente ogni piattaforma ok qua ci spiega esplorando l'area che circolano dei dinosauri della stessa specie definiscono il proprio territorio per determinare il livello di confronto dei dinosauri viene considerata solamente l'area compresa nel loro territorio le porzioni dei territori che non vengono visitate regolarmente si stringono nel corso del tempo rispecchiando i cambiamenti nell'ecosistema dei dinosauri molto interessante questa cosa allora dobbiamo fare questa galleria panoramica di ricerca ah praticamente questo tiene d'occhio il dinosaurio però non ha una strada vabbè facciamola tanto fighissima sta cosa ok ti manca la stessa eh di un po' di f*** anche tu c'è hai i due passi vedete qua qua c'è comunque il carburante quindi possiamo rifornire il carburante che sta finendo quindi faccio rifornisci e ci costa cioè non poco tra l'altro cioè vabbè speriamo di entrare nei costi questo è solo un tutorial però vediamo un attimo è importante è importante assicurarsi che i due dinosauri sono facilmente osservabili da farti dei visitatori perfetto aspetto di visibilità sì perché dovete fare attenzione perché se mettete delle rocce il dinosaurio sta dietro i visitatori arrivano guardano dalla vetrina e non lo vedono e non se la prendono e se la prendono le aree che cercano gli edifici attraranno molti visitatori ok sì ecco questa c'è tutta una cosa gestionale che non si va mai a calcolare mostra panoramica ecco qua questo è quello che si vede dall'interno e voi osservate è una gabbia un po' banale però c'è solo il dinosauro all'interno adesso dovremo osservarlo e vedere se effettivamente si sente solo comfort 43% no proviamo a andarci di nuovo con il con il gippone controllo diretto e lo lo osserviamo e questi giustamente cosa fate qua vabbè questa vedete adesso stiamo andando a vedere la mia zona che ho costruito che bello aggancio B no uso equipaggiamento binocolo stato risorsa confermato no 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 si sta arrabbiando non l'ha presa proprio bene si sente solo sì sono visibili devo fare un'altra galleria perché questi sono visibili praticamente tutti devo metterne un'altra però di qua non è costruibile mannaggia devo costruire un'altra cosa di qua eh dai una qui e poi facciamo che è una strada così i visitatori possono raggiungere la zona e possono vedere tutto da lì e lì si sente solo e dice cibo affamato dobbiamo farli mangiare ma onestamente che cos'è un carnivo no è un popolazione esigenze ambientali vuole acqua fibre basse nessuna malattia rilevata perché poi la cosa interessante è che andrete anche appunto a produrli i dinosauri con le ricerche sul DNA fa delle produrre e avete anche la necessità di avere dei dei dinosauri di di buona salute e di qualità altissima detesta carnivori ok quindi quindi tecnicamente non è bivoro quindi mamma mia mamma mia ragazzi l'unica cosa è veramente un fastidio questo questi glitch qui e devo capire assolutamente perché B-Sync ok tecnicamente dovremmo aver risolto ok B-Sync errore mio potevo pensarci prima allora vediamo se ci sono delle mangiatorie perché mangiatori piscivori eh ma non è un piscivolo è un 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 sacco di soldi dico la verità perché perché mi ha costato forse 60.000 dollari una roba del genere e gli metto anche dell'acqua ok è più felice adesso comfort è aumentato spazio aperto è eh modifichi questo sistema si si vuole le fibre eh fibre alte fibre basse fibre alte spendendo una barca di soldi sei più felice 42 no continua a sentirsi solo quindi dobbiamo soddisfare un po' tutto il il comfort ma questa è sicuramente un'altra storia allora ragazzi io vi direi che vi ho fatto una mezz'oretta di di prova il gioco è questo non abbiamo visto nulla ma ve l'avevo detto siete appassionati dei dinosauri il gioco fa per voi vi sono piaciuti i film il gioco fa per voi vi piacciono i giochi di gestione di parco il gioco potrebbe fare per voi se vi piacciono quei gestori di parco più che altro vi hanno annoiato i gestori di parco classici e volete qualcosa di più profondo questo è senz'altro quello che fa per voi perché avete visto si può guidare la jeep si può guidare l'elicottero si possono fare poi le ricerche dei dinosauri diamo un'occhiata qua c'è eh le missioni che si possono accettare nella sala di controllo c'è la mappa le attività quindi centro spedizioni centro di risposta centro di controllo punto di arrivo dove arrivano le nuove cose le mangiatorie ah eccola qua le mangiatorie abbiamo solo questa poi ci sono strutture per osservare gli operatori rifugio d'emergenza fornisce riparo gli operatori nei paraggi può essere aperto in caso di emergenza per bloccare il calo di valutazione di sicurezza praticamente dovrebbe essere una cosa del tipo scappolini dinosauri vanno tutti lì a rifugiarsi ambiente sentieri l'energia e altre cose che comunque sono ancora bloccate con trasporti trasportati i dinosauri allora ripremetto di nuovo perché ultimamente c'è un po' la prassi di mettere il non mi piace al video e dire che non sono un canale adatto a portare titoli strategici perché non sono un grande stratega ma lo scopo di questo video è darvi un'idea di quello che ha da offrire il gioco credo di avervi più o meno elencato tutte le specifiche principali quindi la ricerca rivista con gli scienziati che potete assumere in base alle loro abilità i biomi che sono sparsi ora in tutto il mondo e non solo circoscritti un'isola pseudo tropicale diciamo hanno approfondito anche il discorso dei visitatori che avete come ora divisi in varie come si fa anche mi pare su planet coaster in varie tipologie quindi quelli più ricchi quelli più votati all'avventura quindi ragazzi di novità ce ne sono parecchie il gioco costa 59,99 su steam non poco lo ammetto però graficamente è carino e credo possa ottimizzare ancora un po' di più la grafica adesso non ho guardato bene di attivare tutte le l'anti-aliasing però il gioco è diciamo notevole e fatemi sapere che cosa ne pensate sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video game play alla prossima ragazzi e ciao ciao